bene qua siamo al quasi uno degli ultimi punti in vervi che ora vi faccio vedere questa è la via venezia dove siamo noi è la via venezia che aspetta ecco così si vede più meglio no mi sono girato la telecamera al contrario perché se no le persone si possono pensare che diciamo perché questo mi sta riprendendo e invece così noi non li riprendiamo mi riprendo io certo c'è lo specchietto di retrovisione ma non è che allora la legge deve dire e anche lo ha anche lo specchietto di retrovisione è illegale allora